Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. La prima volta che Kali Quinn incontrò Yusuf Kater si accorse ad odiarlo. L'uomo era in piedi nella cucina della loro casa condivisa a Santiago, in Cile. Eppure Yusuf era un bel ragazzo, bocca sorridente, alto 1,80m, un fisico scultorio, occhi marroni e tatuaggi tribali su entrambi i bicipiti. I lineamenti erano quelli di un ragazzo buono, anche se era decisamente logorroico, sembrava ossessionato dall'abbigliamento sportivo ed apriva bocca solo per parlare di sport. Arrogante. Kali pensò solo questo, soprattutto dopo averlo sentito raccontare della sua fama come corridore palestinese assai celebre e ricercato. Kali era diversa da lui, 23 anni, occhi blu, pelle imbrunita dal sole ed era arrivata in Cile solo 5 settimane prima. Essendo nativa di Canyon Lake, un'ora fuori Austin, in Texas, desiderava ardentemente vivere all'estero, sin da quando aveva fatto una gita scolastica alle isole Galapagos. Per la ragazza, viaggiare era una vera e propria passione, amava immergersi nelle culture diverse, assaggiare cibi, respirare profumi e proprio per questo aveva frequentato in Texas la facoltà di geografia. Il motivo del suo trasferimento in Cile è da ricercare nelle diverse presentazioni che i professori in università avevano tenuto. Il Sud America l'aveva affascinata e si era dunque ripromessa che, sì, avrebbe vissuto proprio in Cile dopo la laurea. Ammiravo il suo coraggio e la sua indipendenza, avrebbe detto in seguito suo padre, durante un'intervista. Il 4 marzo 2011, salutati i suoi genitori e il fratello maggiore, si imbarcò su un volo per Santiago. Il Cile è il paese più lungo della terra, con il deserto più arido, l'Atacama, a nord, e i pugnali vulcanici della Patagonia, a sud. E Cile si meravigliò del paesaggio anche dal finestrino dell'aereo. Santiago, la capitale, si trova incastonata in una conca tra due catene montuose. Sull'autobus dall'aeroporto, Cile guardò gli edifici di cemento e il fiume Mapocio, color cioccolato al latte. La città aveva quasi una patina post-apocalittica, ma aveva anche un'economia forte. Scuole inglesi con un'ottima fama e il secondo tasso di omicidi più basso di qualsiasi grande metropoli delle Americhe. Non le importava di essere sola, di non conoscere nessuno, si sarebbe fatta a nuovi amici ed una vita perfetta per lei, pensava Cale. Decise di procurarsi per raggiungere il Cile un visto di lavoro. Aveva sentito dire che non fosse cosa poi tanto difficile ottenerlo in quello stato, il Cile infatti li distribuisce abbastanza facilmente e lei sperava di rimanere in quel posto almeno un anno o due. Cully ottenne il visto nel giro di un mese ed iniziò a lavorare come insegnante di lingua inglese presso la Bridge Linguatech Institute. Lì venne a sapere di alloggi simili a un ostello con 12 camere da letto in Avenida Condel, un edificio a due piani ben diviso nel verdeggiante quartiere di Providencia, dipinto con tanti colori quanti erano le nazionalità che vi abitavano. Decise quindi di stabilirsi lì. Forte chiacchierone a Calli fece facilmente amicizia con molti dei suoi coinquilini. Già da subito iniziò a frequentare un agglomerato di gente così variegata da farla sentire viva. C'era Edwin Echery, un britannico che aveva studiato teatro per molti anni, attivista politico e Calli lo accompagnò addirittura a protestare contro l'imminente costruzione di una centrale idroelettrica in Patagonia. Se si voleva divertire usciva a ballare con Sabine Schmidt, una ragazza tedesca piuttosto quadrata con una tenacia da pochi ed un enorme senso dell'umorismo. Spesso faceva battute assieme a Molly Persons, un'insegnante inglese di San Antonio, in Texas. Molly aveva radici texane e proprio per questa ragione lei e Calli diventarono presto migliori amiche. L'ultimo coinquilino era poi Youssef, che si lamentava di chi parlava troppo. A 33 anni era più vecchio degli altri. Nato da genitori palestinesi ad Haifa, ma cresciuto in Danimarca per poi trasferirsi in Cile, dove la Federazione Palestinese del Cile, un'organizzazione che rappresenta la considerevole popolazione palestinese del paese, la più grande al di fuori del Medio Oriente, lo stava sponsorizzando nella sua ricerca per stabilire un record. Per correre la lunghezza di 2653 miglia del Cile in una maratona. Durante la cena, dopo le sue lunghe ore di addestramento, Youssef intratteneva i coinquilini con i resoconti del tempo che aveva passato nelle forze speciali danesi. Eventi dove aveva dovuto stare in piedi per minuti in una stanza piena di mazze o nuotare in pozze profondissime in apnea. Edmund e Sabine, che gli erano particolarmente vicini, pendevano dalle sue labbra ascoltando ogni sua parola. Kali invece alzava gli occhi al cielo. Ma dopo diverse settimane trascorse in casa, dovete ammettere che Youssef aveva un certo magnetismo, era sicuramente pieno di sé, ma aveva il cuore grande. Infatti, se un coinquilino prendeva un raffreddore, correva al supermercato a comprare kiwi e lime per fare quello che chiamava un frullato di vitamina C. Regalava l'abbigliamento sportivo extra Under Armour che riceveva dai suoi sponsor senza pensare di farci ulteriori soldi alla gente che lo desiderava. Un pomeriggio piovoso e particolarmente noioso venne decretato da lui il giorno del cioccolato e, dopo aver svuotato il negozio di alimentari in cerca di dolci da condividere, riunì i coinquilini per la proiezione di Cool Runnings, il suo film preferito. Quando iniziò a frequentare una donna palestinese, una splendida insegnante di danza e madre single di due figli di nome Sohad Alamo, organizzò una festa di compleanno con barbecue per sua figlia di nove anni. Calle iniziò quindi ad affezionarsi a Youssef. A luglio il ragazzo disse di aver appena acquistato due condomini in centro e decise di affittarne uno a lei e Molly. Calle non ci pensò due volte ed accettò l'offerta. Calle e Molly avevano dato a Youssef un deposito cauzionale e, il loro primo mese di affitto, circa 1000 dollari spartiti tra loro. Mercoledì 20 luglio, il giorno prima del trasloco, Calle organizzò un incontro con Youssef alle 8 di sera all'angolo di una strada in centro, in modo che potesse mostrarle dove ritirare le chiavi la mattina seguente. Youssef era arrivato con 30 minuti di ritardo, ma sembrava di buon umore, mentre raccontava un'ennesima storia eccezionale. Si vociferava che tre donne danesi fossero state rapite nell'Atacama e, quella sera, Youssef si sarebbe incontrato con alcuni dei suoi vecchi amici, delle forze speciali danesi, per architettare un modo per trovare e salvare quelle ragazze. Calle e Youssef raggiunsero l'ufficio immobiliare dopo un'ora di tortuoso viaggio, aveva guidato l'uomo e, per tutto il tragitto, era parso un po' confuso sulla strada da prendere. Calle trovò che l'ufficio aveva davvero un'area squallida, eppure non gli diede troppo peso, si godeva la compagnia di Youssef e Youssef si godeva la sua, al punto che decisero addirittura di fermarsi insieme fuori a cena. Poco oltre il fiume squillò il cellulare di Youssef, era Sabine, e Calle poteva capire dei toni taglienti che la ragazza era scocciata e a tratti sconvolta. Ascoltando la conversazione venne così a sapere che Youssef doveva dei soldi a Sabine e ad altri due studenti messicani che alloggiavano nel suo stesso plesso d'appartamenti. Erano soldi che aveva preso ormai da mesi, ma che ancora non aveva riconsegnato. I messicani sarebbero partiti per Buenos Aires il mattino successivo e Sabine sarebbe partita poco dopo per l'Equador. Youssef le assicurò di essere in possesso dei soldi, infatti li stava portando nello zaino. Aggiunse che non sarebbe rincasato fino a tardi, ma che avrebbe lasciato lo zaino con i soldi a Calle. Verso le 11, Calle e Youssef si sedettero finalmente a cena in un bar a pochi isolati da casa loro. Youssef ordinò della vodka per entrambi. Calle non aveva mai visto Youssef toccare alcol. Eppure, quella sera si calò ben sette sciottini come fossero acqua fresca. La nazionale di calcio cilena stava giocando su una tv nell'angolo e Calle si divertiva a guardare Youssef animarsi, parlare sempre più velocemente dicendo quanto fosse felice di aiutare lei e Molly, lanciando solo qualche occhiatina alla partita. Il telefono di Calle squillò. Era Sabine, che chiamava per chiedere perché non fossi ancora a casa. Calle spiegò di essere fuori a cena, ma Youssef la pregò di non specificare con chi fosse. Calle mantenne il segreto promettendo di essere a casa in poco tempo. 15 minuti dopo, Sabine chiamò di nuovo per sentirsi ripetere ancora una volta la stessa frase. Sarò a casa a breve, promesso. Alla terza telefonata consecutiva, la ragazza decise di ignorare il telefono e lasciarlo squillare a vuoto. È ossessionata da me, disse sbuffando la giovane. Youssef non badò molto alla questione delle telefonate, iniziando a raccontare di una certa casa della città che era bruciata poche settimane prima. Raccontò che aveva un gabinetto tutto in oro massiccio. Che due ridendo si guardavano negli occhi e Calle si sorpresi di vedere Youssef arrossire. La casa di cui stavano parlando destò molta curiosità nella ragazza e così Youssef decise di portarcela promettendo che assieme avrebbero trovato quel WC tanto decantato nelle leggende metropolitane. Era un gioco per Calle che dopo aver a lungo esitato decise di dar corda a Youssef accettando di seguirlo. L'abitazione era in realtà uno dei più antichi negozi diplomatici di Santiago, Vulcanización Escoda, e dopo l'incendio la facciata era stata ricoperta dalla miera ondulata. Quando raggiunsero l'edificio Youssef aprì un varco tra le piastre arrugginite e lui e Calle vi si infilarono dentro. Il soffitto era completamente bruciato lasciando un portale sullo sfocato cielo di mezzanotte. Le ceneri svolazzavano da ogni superficie come milioni di ali di falene. Youssef dopo essersi guardato intorno in cerca di uno strumento con cui staccare il sedile del water optò per un piede di porco e provò ad aprire la strada per trovare il bagno. Quello non è oro, gemette Calle, non appena entrarono nel gabinetto. Il sedile del water era di plastica beige generica, nulla a che vedere con la fantasia che Youssef gli aveva raccontato. Youssef decise di staccarlo comunque, lavorando con il piede di porco attorno al bordo posteriore. Devo andare, disse Calle, domattina lavoro alle sette e mezza. Youssef le disse di aspettare, non voleva che i tifosi di calcio che a breve si sarebbero riversati per le strade le dessero problemi. Calle, indifferente, tornò verso l'ingresso senza dare troppo peso ai passi di Youssef, sempre più pesanti dietro di lei. Hey Calle, la chiamò Youssef e quando la ragazza si girò riuscì solamente a sentire il crepitio del metallo sulla parte posteriore del suo stesso cranio. Cadde all'indietro con un ginocchio tra le costole e con il viso contro il cemento gelido. Quando aprì gli occhi Calle vide il viso di Youssef contorto dalla rabbia a pochi centimetri dal suo. Lui le stava a cavalcioni e con le mani le stringeva il collo. Perché hai detto a Sabin che ti dovevo dei soldi? Disse il palestinese, mentre le sue dita le torocevano la tarachea sempre più forte. Perché? Calle non riusciva a capire. Stai per uccidermi, sputò la ragazza in un rantolo, prima che il dolore, assieme alla cenere che i piedi di Youssef sollevavano, la raggiunsero. Calle non vide più nulla. Era passata la mezzanotte, Sabin si girava e rigirava tra le lenzuola, le sembravano taglienti come lame. Da settimane cercava di convincere Youssef a ripagarla. Il ragazzo aveva inventato una miriade di stupide scuse e lei, in buona fede, era cascata in ognuna di quelle. Una volta non poteva ridarle i soldi perché gli era stato rubato il passaporto. La volta dopo perché aveva lasciato i contanti a casa della sua ragazza. Quella dopo ancora perché la banca non aveva elaborato la sua richiesta. E così via. Proprio il giorno prima, Sabina aveva organizzato un incontro con lui all'angolo di una strada in centro. Ma quando Youssef non si era presentato, la ragazza era andata via dopo circa 15 minuti, nervosa e arrabbiata. Quel ragazzo si era preso gioco della sua bontà e soprattutto della loro amicizia. Youssef aveva preso in prestito 1000 dollari da lei e circa 550 dollari dagli studenti messicani. In piena notte decise di chiamare nuovamente il telefono di Calli, ma risultò per la prima volta irraggiungibile. Chiamò quindi Youssef, ma il cellulare squillò a vuoto fino a luna del mattino, quando in un ennesimo tentativo di chiamare il ragazzo, questi rispose. Disse Sabine che, come preannunciato, lo zainetto lo aveva lasciato a Calli, ma Calli non era tornata. Non temere, sarò di ritorno a breve. E così Youssef concluse la telefonata. In poco tempo Sabine sentì Youssef al piano di sotto. Stava bussando alla porta di Edmund e poi a quella di Molly, chiedendo se avessero visto Calli. Quando Sabine si diresse verso il pianerottolo, i tre stavano discutendo su dove la ragazza potesse trovarsi. Sabine guardò Youssef. Fuori faceva freddo, eppure il ragazzo sembrava sudare. Gli tremavano le mani. Dov'è il tuo cappotto? Gli chiese quasi preoccupata. Youssef la ignorò, e ciò spinse Sabine a bombardarlo di domande, chiaramente. Dove diavolo era la sua amica? Con chi altro è uscita Calli? E se fosse stata attaccata per i soldi? Dovremmo forse andare a cercarla? Sei stato l'ultimo a vederla, scattò Sabine con nervosismo. È colpa tua se le è successo qualcosa, disse infine prima di tornare in camera sua. Youssef sembrava sconvolto, e nell'ora successiva Edmund e Molly proseguirono la discussione con lui in soggiorno, pensando a come muoversi. Poi, guardando fuori dalla finestra, Edmund si bloccò. Sotto il bagliore arancione del lampione, una figura sghemba dai capelli scomposti stava incespicando lungo il marciapiede, aggrappandosi alla recinzione di ferro della casa per tenersi in equilibrio. Edmund riconobbe quel lungo agappotto. Aspetta, Anzimo, quella è Calli? Lui e Youssef corsero al cancello principale. Youssef stava davanti a tutti quando raggiunsero Calli. Era così sporca che ci volle qualche minuto perché i suoi amici la riconoscessero. Dio mio, stai bene? Chiese Youssef. Calli tremava. Come hai potuto farmi questo? Aveva urlato la ragazza con occhi sgranati. Come hai potuto farmi questo? Ribadì e il dito puntava al petto di Youssef. Edmund, confuso, fece un passo indietro. Youssef si mosse per sostenerla per la spalla, ma la ragazza lo scansò come si fa con un insetto pericoloso. Allontanati da me! Urlò, oltrepassandolo e inciampando in casa, dove crollò tra le braccia di Molly. Sabine, sentendo le grida dalla sua camera da letto, si affrettò al piano di sotto. Calli era sporca. Le sue mani annerite lasciavano striatture sui muri mentre cercava di stabilizzarsi. Non riusciva a smettere di tossire. Sabine la fissò a lungo, chiedendosi di cosa potesse essere ricoperta. Non lo sapeva, ma in ogni caso l'aiutò a farsi una doccia accompagnata da Molly. Le amiche aiutarono Calli ad entrare in bagno, la spogliarono ed iniziarono a lavarla con calma. Fu Molly, mentre le applicava lo shampoo, a notare sulla sua testa uno squarcio, una profonda ferita nodosa con capelli arruffati e sangue coagulato. Temendo che il cranio di Calli fosse rotto, Molly fu presa dal panico. Sabine immediatamente chiamò un taxi per farla scortare all'ospedale con la faccia ancora sporca e avvolta in alcuni vestiti puliti. Gli occhi di Calli erano chiusi e gonfi, grandi come noci. Cominciò a vomitare sangue prima di raggiungere l'ospedale. Youssef nel frattempo stava passeggiando per la cucina. Non ho fatto niente, protestava camminando come se il sedere gli andasse a fuoco. Teneva gli occhi serrati ed agitava le braccia. Come possono dire questo le ragazze? Mi conoscono, come possono darmi la colpa? Urlò. E Edmund lo tirò da parte cercando di confortarlo. Conforto, certo. Forse Kelly aveva bevuto troppo, disse Edmund. Quando Sabine chiamò dal pronto soccorso per dire che l'ospedale aveva bisogno dell'identificazione di Calli, Edmund si affrettò a cercare il passaporto della ragazza e a portarglielo. Kelly nel frattempo vomitò di nuovo sangue e, quando fu finalmente portata in una stanza d'ospedale, riuscì a tranquillizzarsi e a raccontare, d'essere stata colpita e strangolata. Aveva poi perso i sensi ed aveva avuto paura di morire. Ma un sogno l'aveva risvegliata. Un sogno durato dieci minuti o forse solo pochi secondi. Raccontò di essersi sentita avvolta nell'oscurità e di aver sentito suo padre, sua madre e suo fratello che urlavano furiosamente intorno a lei. Anche Molly era lì. Urlava con loro, svegliati Calli, devi svegliarti. Ci sto provando, si era sentita urlare di rimando. Non posso uscire da questo incubo. Le sue braccia e le sue gambe non si muovevano. Era costretta, immobile, come se qualcosa la tenesse ancorata a quel gelido terreno. E poi il nero, aderente e vellutato del suo sogno, aveva lasciato il posto al nero freddo e granuloso di una tela. Non più nel sogno, ma nella realtà, era stata avvolta in un telo. La ziv di chiusura, per un colpo di fortuna, era rivolta verso l'alto, però. Aprendolo, la cenere si era schiantata contro i suoi occhi. Ricordava di essere rimasta seduta tossendo, ricoperta di fuligine e cenere per interminabili minuti. Aveva scoperto di essere stata trascinata in un armadio umido. Calli sottolineò nuovamente che era stato Youssef a farle del male, che era un uomo pericoloso. Molly le credette ciecamente, ma Elbund e Sabine si dimostrarono scettici, nonostante il dottore avesse sottolineato che non c'era assolutamente pericolo che la botta in testa le avesse offuscato il ricordo. Quando Molly raccontò loro la storia nella sala d'attesa del pronto soccorso, i due si scambiarono un'occhiata. Non era possibile. Calli doveva essere confusa. Youssef non si era mai dimostrato una persona violenta o cattiva. Edmund e Sabine tornarono a casa, dove trovarono Youssef sveglio sul divano, con l'aria tesa. Fece una smorfia di comprensione quando gli raccontarono della temporanea perdita della vista di Calli, causata dalle lacerazioni agli occhi dovute alla cenere, e rimase zitto mentre si chiedevano se potesse essere stata abusata dal suo aggressore. Youssef era davvero molto agitato dalle accuse di Calli e insisteva dicendosi innocente. Fissando le violente strisce di cenere in fondo al corridoio che Calli trascinandosi aveva lasciato sui muri, Sabine iniziò a piangere. «Chi farebbe una cosa del genere?» chiese. Alle cinque del mattino i tre decisero di coricarsi. Mezz'ora dopo, incapace di addormentarsi, Sabine sentì scricchiolare le scale e poi bussare alla sua porta. Era Youssef. Sembrava devastato. «Mia madre è morta», le disse. «Devo volare in Danimarca». Sabine lo fissò con occhi semi chiusi, un po' per la stanchezza e un po' per la fatica di tutta quella situazione, ma disse solamente «Va bene». Un paio d'ore dopo, Edmund aiutò Youssef a caricare i suoi bagagli in un taxi. Calli era certa che Youssef avesse tentato di ucciderla. Ma perché? Mentre la vittima di quella barbarie giaceva in ospedale, il giorno successivo Molly decise di presentare una denuncia alla polizia. Quando un carabinieri in uniforme verde oliva andò ad ascoltare Calli per una deposizione, la ragazza si rese conto di non riuscire a raccontare gli eventi, non ricordava le parole che Youssef le aveva detto durante l'aggressione e non riusciva nemmeno a spiegare il perché il ragazzo sarebbe dovuto diventare violento verso di lei, che non c'entrava nulla con la faccenda dei prestiti. Inoltre, se davvero Calli era stata strangolata, perché non aveva lividi sul collo? L'intero rapporto venne trattato come una semplice disputa tra due stranieri. Poco grave. Quel pomeriggio Molly cercò di contattare la famiglia di Calli, in Texas. E li cercò su Facebook per mettersi in contatto con loro e riuscì a contattare infine suo fratello, John Bryan. Sono al lavoro, aveva risposto il ragazzo da San Antonio. Per favore, spiega meglio che puoi quanto sia grave. Molly raccontò tutto, che Calli aveva subito un attacco e che stava in ospedale con una commozione cerebrale, abrasioni corneali e una tensione alla laringe e che aveva inoltre ricevuto nove punti di sutura alla testa. John Bryan, il fratello di Calli, a questo punto chiede È stata violentata? Molly gli risponde No, John ribatte Sei sicura? Molly risponde È quasi sicura? Penso che se ne sarebbe accorta. John ribatte Dille che le voglio bene Molly risponde Anche lei ti vuole bene John risponde Voglio uccidere chi ha fatto questo Molly ribatte Calli è sveglia qui vicino a me Lui è un ex membro dell'esercito reale danese Un ragazzo piuttosto difficile da uccidere John ribatte Ci penserà la polizia a punirlo Molly risponde Bene Ho presentato la denuncia Ma questo è il Cile E tutto questo risulta come un banale conflitto tra due stranieri Poi riscrive Molly Se lui ha già lasciato il paese Non c'è molto che possono fare Quando i genitori di Calli, Jeff ed Elaine appresero una notizia Erano a San Antonio A comprare provviste per una riunione della famiglia Queen a Canyon Lake Si precipitarono a casa e si collegarono a Skype Quando Elaine vide gli occhi incrostati di sua figlia Il cuoio capelluto parzialmente rasato E i punti gonfi iniziò a singhiozzare Calli proibì loro di venire in Cile Non voleva si preoccupassero troppo Era viva dopo tutto Inoltre Youssef era a piede libero E non si sentiva sicura Calli pianse Pianse rivelò di avere tanta voglia di tornare a casa sua Sabine scambiandosi turni al capezzale di Calli con Molly ed Edmund Si lasciò trasportare dai racconti della ragazza Che prima gli erano sembrati tanto campati per aria Nella sua testa iniziò ad immaginare gli eventi della notte precedente E ascoltando Calli descrivere l'incidente Si rese conto con orrore che quello era il tipo di resoconto impossibile da inventare Decise quindi di inviare un messaggio alla ragazza di Youssef su Facebook Sperando di sapere se fosse arrivato alla sua città natale Di Bronsloo a sei ore di auto a nord di Copenhagen O se fosse ancora in viaggio Quando Sohad finalmente la richiamò venerdì mattina Sabine riuscì a trattenersi Dov'è Youssef? Le chiese La risposta la lasciò di stucco È con me Disse Sohad Youssef era arrivato a casa sua intorno alle nove e mezza di giovedì mattina Con tre bagagli Aveva detto che stava andando all'aeroporto per il funerale di sua madre In Danimarca Ma non poteva andarsene senza salutarla Al momento della telefonata la ragazza era al lavoro Ma per quanto ne sapeva Youssef doveva essere ancora a casa sua Sabine cercò di spiegare quanto era successo a Kali Dicendo che avrebbe mandato la polizia a cercare Youssef da lei Sohad ascoltava in silenzio Quando tornò a casa un paio d'ore dopo Pranzò con Youssef Chiedendosi se l'uomo di buon cuore che aveva conosciuto Potesse davvero essersi tramutato in un mostro capace di una simile crudeltà Sabine aveva allertato i carabinieri della città in cui viveva Sohad Ma questi non si erano nemmeno attivati Intorno alle sette Sohad andò a prendere i suoi due figli e Di ritorno trovò un biglietto scritto a mano Youssef aveva trovato un volo Scrisse che l'amava ed era grato di averla incontrata Più tardi quella notte il ragazzo pubblicò su Facebook il seguente stato È molto difficile perdere mia madre e l'amore della mia vita nello stesso giorno Youssef aveva lasciato le sue tre valice a casa di Sohad Tre giorni dopo l'arrivo in ospedale Calli fu dimessa e si rintanò in una camera da letto degli ospiti Nell'appartamento del suo capo Mangiando zuppe e frullati E aspettando che i medici la autorizzassero a tornare in Texas Spaventati anche i suoi coinquilini iniziarono a fare piani per fuggire da Santiago Sabine in Germania, Molly negli Stati Uniti e Edmund in Inghilterra Edmund che Youssef aveva invitato a condividere il suo altro appartamento Raccontò l'attacco di Calli con un messaggio su Facebook Quindi sì, aveva scritto Fondamentalmente questo bastardo è ancora latitante poiché la polizia cilena è inutile L'episodio ci ha sconvolti tutti e sento il bisogno di andarmene da qui Il suo messaggio venne inoltrato all'unica persona a Santiago Che gli amici pensavano potesse essere d'aiuto Rocio Berrios Un'avvocatessa penalista di 33 anni con occhiali prada a occhi di gatto e capelli neri Che aveva sempre curato come fosse un'imposizione Rocio Berrios amava affrontare i casi più orribili del Cile Ex giornalista si era scritta alla facoltà di giurisprudenza Dopo aver seguito ossessivamente un caso di innocenza di alto profilo In cui la polizia aveva accusato ingiustamente otto uomini di omicidio Quando il padre di un compagno di classe era stato coinvolto In uno dei più grandi scandali di corruzione del governo cileno Rocio Berrios aveva dimostrato di essere così brava a creare buchi nell'accusa Che aveva sostituito il principale avvocato difensore Rocio si ricordò di Calli Le due si erano incontrate brevemente a una festa dopo la protesta contro la centrale idroelettrica E decise di farle visita Era rimasta assorbita dal racconto della ragazza Sapendo quanto potesse essere difficile e dispendioso Destreggiarsi nel sistema giudiziario cileno Si offrì di rappresentare Calli pro bono ed aiutare a mettere Yousef dietro le sbarre Calli acconsentì e Rocio allertò immediatamente in unità unicidi della polizia investigativa cilena Che un possibile assassino era a piede libero Intervisto poi la cameriera che aveva servito la cena a Yousef e Calli La diciannovenne confermerà i ricordi di Calli della serata E convinse poi Calli, Sabine, Molly, Edmund e gli altri studenti messicani A rilasciare dichiarazioni giurate alla polizia Dopo tutto questo lavoro il mandato d'arresto per Yousef venne concesso Ma dov'era Yousef? Una notte tardi seduta alla scrivania del suo loft Rocio incappò in un articolo online su come Yousef Kater Avesse organizzato una gara di 24 ore fuori Copenaghen nel 2009 Cercando ulteriormente scoprì chi aveva vinto il primo posto nella maratona Nella giungla di 100 km in Brasile nell'ottobre 2010 Come corridore in rappresentanza della Palestina Il gennaio successivo la federazione palestinese del Cile a Santiago Aveva annunciato il suo arrivo nel paese del suo sito web Annunciando l'intenzione di Yousef di correre l'ultra maratona di Atacama Crossing il 6 marzo 2011 E chiedendo ai membri della comunità di contribuire al suo fondo per la corsa Correndo la pagina Rocio notò anche uno strano commento che raccontava come Yousef Non fosse un maratoneta, bensì un truffatore O almeno così aveva scritto qualcuno in spagnolo Rocio rispose a quel commento Sto cercando informazioni su Yousef, come posso contattarti? Il giorno successivo mentre aspettava una risposta la donna contattò un amico di Las Ultimas Noticias Uno dei giornali scandalistici più letti di Santiago Aveva bisogno di sfruttare il potere del pubblico Il 29 luglio il giornale riuscì a pubblicare una storia in prima pagina su Calli Incluse anche una foto ravvicinata delle sue eridi verdi Affondate in uno snodo di vasi rossi incorniciati da cigliacuose La storia fu ripresa da Cilevision Un canale di notizie tv che fece esplodere le fotografie di Yousef E mandò in onda numerose interviste con Calli All'1.53 poche ore dopo che la storia venne caricata online Rocio ricevette risposta a quel messaggio su Facebook Hola Rocio, ho appena visto l'articolo su Yousef Kater E hai tutto il mio supporto per aiutarti Se sei d'accordo possiamo fare un piano Per fornirti le informazioni di cui hai bisogno Ti metterò poi in contatto con gli altri interessati Saluti Carlos Carlos Medina era un membro della federazione palestinese Aveva visto la sua domanda sul sito web Era un ingegnere informatico Suggerì di incontrarsi il giorno successivo durante un happy hour con i suoi colleghi Ciò che Rocio apprese durante quell'incontro Avrebbe annullato tutto ciò che sapeva su Yousef Carlos Medina spiegò come lui e suo amico Carlos Krauss Avessero contribuito a raccogliere oltre 8.000 dollari per sponsorizzare Yousef nella gara di Atacama Per quanto ne sapevano un palestinese non aveva mai vinto una maratona estrema prima Ed erano entusiasti Ma fin dall'inizio avevano notato alcune stranezze diciamo così In primo luogo Yousef era arrivato con un amico al seguito Una fabile e biondo maratoneta britannico di nome Dominic Rayner Al quale a quanto pare aveva fatto credere che avrebbe ricevuto anche una sponsorizzazione E i palestinesi non avevano mai sentito parlare di questo Dominic Rayner Sebbene Dominic Rayner pagasse da solo vitto alloggio Yousef parlava costantemente male del suo amico Definendolo uno scroccone Abbandonandolo in ogni occasione Che razza di amicizia è questa? Si era chiesto Carlo Krauss Giustamente Poi il secondo giorno di gara Yousef si era ritirato Dicendo che gli organizzatori Sostenevano di aver notato uno strappo muscolare nella sua gamba Lo avevano costretto ad abbandonare la gara quindi Sospettavano tutti che la mossa fosse di matrice razziale Scorciati e irritati Carlos Krauss e Carlos Medina avevano insistito affinché Yousef potesse essere esaminato per provare il danno Poco dopo Yousef smise però di rispondere ai loro messaggi e telefonate La diagnosi riportava però che non era avvenuta nessuna lacerazione muscolare Yousef inoltre era scomparso Perplesso Carlos Krauss contattò Dominic Rayner che era tornato a Londra E disse ai palestinesi che per quanto ne sapeva Yousef era ancora a Santiago Poi arrivò una svolta Dominic Rayner disse che Yousef gli doveva dei soldi Non solo Dominic Rayner gli aveva comprato 12.000 dollari di equipaggiamento Under Armour Ma gli aveva anche dato circa 38.000 dollari per acquistare alcune proprietà in Brasile nelle quali Yousef aveva suggerito di andare insieme Quando Dominic chiese indietro i suoi soldi Yousef gli offrì due opzioni Poteva mandare un bonifico con la somma o Dominic poteva tornare a Santiago e ritirarla di persona dal suo avvocato Carlos Krauss e Carlos Medina esortarono subito Dominic a tornare di persona a Santiago Era l'unica possibilità che aveva di vedere i suoi soldi ed erano tutti ansiosi di sapere dove si nascondesse Yousef Dominic Rayner sebbene diffidente accettò sperando di assicurarla la giustizia Contattò così Yousef che promise di incontrarla all'aeroporto Quando l'inglese atterrò alle 7 e mezza del mattino del primo aprile Yousef non si vedeva da nessuna parte Alla fine incontrò Dominic Rayner in città più di 12 ore dopo Condusse Dominic a fare una passeggiata di un'ora per mostrargli dove viveva in Avenida Condel Nella stessa casa in cui Calli si sarebbe trasferita due settimane dopo Poi insistette per passare la notte nella stanza d'albergo di Dominic Yousef spiegò che l'ufficio dell'avvocato era a solo mezz'ora di distanza dall'hotel E non voleva che nulla impedisse il loro incontro la mattina successiva Rayner nonostante fosse allarmato consentì solo perché sapeva che se non l'avesse fatto Non avrebbe mai più rivisto Yousef e nemmeno i suoi soldi Il giorno seguente in mezz'ora che lì divideva dal fantomatico ufficio dell'avvocato di Yousef Si trasformò in tre ore di percorso Il palestinese condusse Dominic Rayner su un sentiero tortuoso intorno a Santiago E infine in periferia dove si recarono a piedi in un lussuoso sobborgo collinare Nel quale Yousef disse che l'avvocato lavorava L'escursione era così ripida che Yousef raccolse un bastone da passeggio Quando il Rayner aveva suggerito di chiamare un taxi a un certo punto Il palestinese aveva insistito per proseguire dicendo che oramai sarebbe stata questione di 5 minuti di distanza Ma quando Dominic rimase indietro per allacciarsi la scarpa Yousef lo caricò improvvisamente colpendola alla testa con il bastone da passeggio Il colpo mancò il biondo di pochi centimetri Sorpreso Dominic si precipitò su Yousef urlando Una volta scontrati però Dominic batte la testa contro una roccia Yousef quindi si affrettò a prendere il suo bastone E sollevandolo sopra la testa del britannico si preparò a colpire nuovamente Ma due curiosi stavano giusto scrutando la scena Tremante Yousef decise quindi di rotolare con Dominic in un fosso senza colpirlo ulteriormente Lo implorò invece di tenere la bocca chiusa, di non parlare a nessuno della zuffa E gli disse pure di aver speso tutti i suoi soldi Quindi presero un autobus e Dominic rimase muto per tutto il viaggio di ritorno Era davvero spaventato Yousef scarabocchiò una cambiale di 55 mila dollari Terrorizzato Dominic lasciò Santiago il giorno successivo Denunciando Yousef al British Metropolitan Police Service e l'Interpol Solo dopo essere arrivato a Londra Si sentiva in totale paranoia E se fosse stato vittima di una sorta di complotto terroristico? Forse l'avevano incastrato Carlos Krauss e Carlos Medina? Gli ci volle un'intera settimana per rispondere alle email dei palestinesi E presentare una denuncia al consulato cileno Arrivati alla fine del racconto Carlos Medina disse a Arrocio che nessuno di loro sapeva dove si trovasse Yousef Ascoltando la donna fu incoraggiata da un dettaglio Se Yousef era rimasto a Santiago dopo aver attaccato Dominic Probabilmente c'era rimasto anche dopo aver attaccato Calli Incontrò così l'investigatore capo della polizia Nelson Contreras E iniziarono subito a chiamare i nuovi contatti forniti da Dominic Carlos Krauss e Carlos Medina Sembrava che in ogni posto in cui Yousef fosse andato i soldi fossero scomparsi Durante la maratona della giungla brasiliana Aveva rubato contanti dalla borsa di un amico e incastrato il proprietario di un ostello Aveva anche convinto un corridore norvegese a ritirare quasi 10.000 dollari da investire in proprietà brasiliane Poi aveva preso i contanti dall'auto ed era scappato via A Copenhagen aveva pubblicato un annuncio sui giornali Offrendo un soggiorno gratuito in una città dello sport Costruita da un principe a Dubai A qualsiasi atleta che fosse stato in grado di pagare una buona somma Aveva quindi convinto quasi 50 persone a trasferirgli del denaro Più di 28.000 dollari in tutto In modo che potesse acquistare i loro voli Il giorno prima che il denaro fosse dovuto alla compagnia aerea Il suo appartamento aveva misteriosamente preso fuoco Presumibilmente impedendogli di acquistare i biglietti o restituire i soldi Esaltata dalle sue scoperte Rocio non dormiva quasi più la notte Pensava e ripensava I dettagli della fuga di Youssef erano stati ampiamente trattati sul quotidiano Havidovr Avis Sebbene fosse identificato solo con le iniziali del suo nome e cognome E la sua faccia fosse offuscata secondo la legge danese Il suo corpo e i suoi tatuaggi tribali erano inconfondibili Era stato arrestato in Danimarca nell'autunno del 2009 per diversi crimini Tra cui l'impresa di Dubai Ma non si era presentato al processo nel gennaio 2011 Era ancora ricercato per incendio doloso, appropriazione indebita e frode Mentre Rocio continuava a scavare nel passato di Youssef Un attivista palestinese e cittadino danese di nome Maher Khatib Decise di investigare per conto suo Un fotografo che aveva inizialmente presentato Youssef a Carlos Medina e Carlos Krauss Era furioso con Youssef per aver infangato la reputazione del popolo palestinese Dopo aver cercato per ore di rintracciare la famiglia di Youssef Aveva scoperto l'esistenza di una sorella che lavorava come avvocatessa a Copenaghen Maher racconta che quando la donna rispose al telefono Scoppiò in lacrime, disperata E così Maher scoprì che anche i familiari di Youssef Altro non erano che vittime della sua delinquenza Ha distrutto le nostre vite, singhiozzò È sempre stato così Mia madre, mio fratello e io non abbiamo alcun contatto con lui Poi aveva rivelato un altro dettaglio Youssef non era originario di Haifa, come aveva affermato Ma era nato a Beirut Prima che la famiglia emigrasse Quindi il ragazzo non era affatto palestinese Era libanese Rocio decise di condividere ogni nuova informazione con Kelly Youssef si era fatto strada nella comunità palestinese Aveva approfittato del loro orgoglio nazionale per soldi Era solo un corridore medio Aveva servito dieci anni con i marines danesi Prima di essere congedato con disonore Per frode all'età di 28 anni Inoltre sembrava improbabile che avesse prestato servizio con le forze speciali Per quanto riguardava i nuovi condomini Anche quelle erano una truffa La mente di Kelly vacillò Le storie di Youssef, la sua generosità, le sue ore di allenamento Erano state davvero tutte una bugia Traeva conforto dal fatto che Almino non era stata l'unica ad essere caduta nei suoi tranelli Quando finalmente salì a bordo di un aereo per tornare in Texas il 3 agosto Rocio promise di rimanere in contatto con lei Youssef era motivato dal denaro Disse a Kelly E il denaro sarebbe stato il modo per attirarlo tra le braccia della polizia Tramite email Rocio, Dominic Reiner e la vittima norvegese di Youssef Architettarono il piano perfetto Scoprirono che Youssef aveva da poco scritto a un'ex ragazza chiedendole soldi per l'amputazione di un braccio e una gamba La prima ex rifiutò di concedergli quel prestito ma pochi giorni dopo un'altra donna accettò di trasferirgli 120 dollari Rocio pianificò quindi che la polizia sorvegliasse gli sportelli di trasferimenti della città così da poter ritrovare Youssef La notte prima che lo stratagemma avesse luogo tuttavia Rocio apprese che Youssef aveva scritto alla donna per dirle che stava inviando invece una seconda donna taiwanese Una sponsor, Lin Kiamin A ritirare i soldi Siamo fottuti, disse Rocio Come altro avrebbero potuto fare? Fortuna volle che nel giro di poche ore l'investigatore capo della polizia Nelson Contreras riuscì a rintracciare l'indirizzo di Kiamin che si era rivelata essere un'operaia tessile di 23 anni per un'azienda che progettaeva una linea di abbigliamento sportivo e aveva inviato agenti della polizia a sorvegliare la sua casa Il giorno successivo verso le 3 del pomeriggio gli agenti seguirono Kiamin in un'agenzia di denaro Chile Express Là, ad aspettarlo sul marciapiede, c'era proprio Youssef che venne arrestato mentre l'invisibilmente confusa venne lasciata andare Il 9 agosto, due giorni prima del suo 24esimo compleanno, Calle ricevette un'email da Rocio Ce l'ha scritto, lo abbiamo in pugno Buon compleanno! Nelle ore successive al suo arresto, Youssef guidò gli ufficiali della polizia all'Hotel Lion Una struttura pittoresca con affreschi antichi e pavimenti in parquet A solo un miglio e mezzo dalla casa che aveva condiviso con Calle Aveva trascorso le ultime due settimane lì Permiso agli investigatori di raccogliere tutte le prove che volevano Il portiere dell'hotel rimase scioccato a sapere che Youssef era un criminale Gli era sempre parso tanto dolce Chi pagherà la stanza? Chiese poi mentre gli investigatori se ne andavano con tutte le prove raccolte Non noi! Avevano risposto ridendo gli agenti Verso mezzanotte Youssef accettò di rilasciare una dichiarazione Seduto di fronte a lui nell'ufficio della polizia Rocio inviò un messaggio a Calle dal suo laptop Mentre si preparava a spiegare tutta la storia a un investigatore e ad un paio di altri avvocati Erano le 20 e 39 Alle 20 e 39 Rocio scrive a Calle Ho bisogno di popcorn, sento che sarà un vero film Alle 20 e 40 Calle ribatte Questo è il giorno più bello di sempre Rocio risponde Ascolteremo tutto il suo mondo fantastico Anche Dominic Reiner è felice E i palestinesi stanno tutti festeggiando Calle poi ribatte Vorrei che tu lo registrassi in modo da poter ascoltare la sua versione della storia Mandami via mail tutti i dettagli Rocio ribatte Sta dicendo di non essere mai stato arrestato prima Che è una bugia Ha detto di essere stato vittima di un ricatto Che Calle risponde OMG Che vorrebbe dire oh my god In italiano è tipo oh mio dio Rocio ribatte Ok non sentiremo altro che stronzate Yussef disse di non essere assolutamente irresponsabile dell'aggressione subita da Calle Perché la notte in questione aveva detto alla ragazza che l'acquisto degli appartamenti era fallito Le aveva restituito il deposito e le aveva dato uno zaino pieno di soldi da portare a Sabine Si era poi incontrato con due amici di nome Sam e George Sabine lo aveva chiamato più tardi quella sera per lamentarsi del fatto che Calle fosse andata a cena invece di portarle a casa i soldi Yussef durante l'interrogatorio si mostrò calmo Sorrideva mentre raccontava la serata Ma quando gli vennero chiesti i cognomi dei suoi amici O anche solo un numero di telefono o un indirizzo di casa Il ragazzo disse di non ricordare nulla Basta così interruppe il pubblico ministero Se fossero veramente amici tuoi avresti almeno un numero di telefono Solo allora e per cinque secondi il contegno di Yussef vacillò Il suo volto fu assalito da un'espressione di rancore I suoi occhi erano diversi ricordò in seguito a Rocio Freddi e duri Ho visto per la prima volta il vero volto di Yussef Chi fosse il vero Yussef era la domanda che tormentava chiunque lo avesse conosciuto Soprattutto lo psicologo del carcere di Santiago che lo aveva visitato Yussef aveva risposto con coraggio alle domande del dottore Si rendosi per due colloqui psicologici forensi Un test di Rocharch e un esame diagnostico per i disturbi della personalità Ammiso di essere nato a Beirut Suo padre che era spesso ubriaco e violento fisicamente era un saldatore Sua madre lavorava in un ospedale Avevano avuto cinque figli uno dei quali morì tragicamente Prima che la famiglia emigrasse nel periodo della guerra del Libano Nel 1982 A scuola Yussef era sempre stato popolare In parte per le sue capacità atletiche Aveva corso la prima maratona all'età di 11 anni Ma ancora di più aveva detto per il suo bell'aspetto Si era inoltre unito all'affanteria all'età dei 18 anni Quando i suoi genitori si erano separati E poi al Marine Dopodiché era diventato uno dei pochi Si vantava ad essere selezionato per le forze speciali del paese Quando gli fu chiesto se si considerasse coraggioso Rispose solo Se nuotare con gli squali è coraggioso Allora sono coraggioso Ok Insistette però sul fatto di non essere un criminale Aiuto gli altri e metto i loro bisogni prima dei miei Si descrisse lo psicologo come un uomo concentrato Pieno di obiettivi e di passioni Durante la seduta parlò anche della sua relazione con Sod E pianse definendola la storia più importante della sua vita Sono una persona che mostra le sue emozioni Aveva detto agli inquirenti Eppure Quando si trattava di Kalli Si tramutava in una statua di pietra Senza sentimenti Lei beve Usa sostanze Prendeva il cibo degli altri in casa Senza chiedere Aveva detto Non è un'amica Aveva poi aggiunto Messo sotto pressione però Yousef cambiò il racconto di quella terribile notte Moltissime volte Tanto che Quattro mesi dopo la sua incarcerazione a dicembre Ammise finalmente di aver colpito D'essere l'unico colpevole Dell'aggressione subita dalla ragazza Finalmente Aggiunse Aggiunse ascoltate bene Che il suo scopo Non era quello di ucciderla Ma di confonderla In modo che si ricordasse di aver già consegnato i soldi a Sabine E lui avrebbe potuto quindi portarglieli via O almeno avrebbe voluto che Una volta rinvenuta Calli Pensasse ad essere stata Aggredita da qualche tifoso Che le aveva successivamente Rubato i soldi Genio del male Si era accorto poi Della gravità della ferita E dunque Aveva deciso di Nascondere la ragazza Anche qui Genio del male Mostra tratti narcisistici Paranoici E asociali Scrisse lo psicologo Del rapporto finale Gli manca empatia E il suo rapporto con gli altri È determinante Non era chiaro Quali parti della biografia di Yousef Fossero vere E le interviste Rivelarono Ciò che Rothio E altri Avevano già sospettato Yousef Era molto probabilmente Uno psicopatico Sebbene il termine Non sia stato applicato Ufficialmente Aveva mostrato Molti tratti classici Della psicopatia Era carismatico Egoista In cerca di emozioni Ingannevole E disinvolto Incline alla noia E alla promiscuità Parassitario Nei suoi scambi Con gli altri Soprattutto Sembrava non avere coscienza Emozione Osservata per la prima volta Nel 1801 Da uno psichiatra Francese Che la descrisse Come Follia Senza illusione La psicopatia Ha catturato L'immaginazione Pubblica Dal 1941 Quando lo psichiatra Americano Harvey Klee Ha raccontato Le sue interazioni Con gli psicopatici Di un ospedale Della Georgia Nel classico The Mask of Sanity La condizione Sembra avere Una componente Genetica Alcuni esperti Come il neuroscienziato Kent Kiel Ritengono Che derivi Da un deficit Generale Della regione Paralimbica Del cervello Che regola Le emozioni L'inibizione E il controllo Dell'attenzione Mentre altri Hanno teorizzato Che derivi Più specificamente Da un'amigdala Difettosa La parte del cervello Più irresponsabile Del condizionamento Della paura Gli studi Infatti dimostrano Che le amigdale Degli psicopatici Solo in media Più piccole Del 18% Qualunque sia la causa Crea una tipologia Di criminale Assai inquietante L'esperto Manipolatore Che nasconde Una personalità Grossolanamente Inabile E irresponsabile Ha scritto Hervé Klee Dietro Un perfetto Mimetismo Di normale Emozione Intelligenza Fine E responsabilità Sociale Molti psicopatici Fingono comportamenti E usano commedie di pietà Storie di tragedie O traumi personali Per distrarre gli altri Dalla propria mancanza Di sentimenti E coscienza Incapaci di amare Insensibili Alle emozioni Che ne scaturiscono Vale a dire Empatia E senso di colpa Gli psicopatici Si concentrano Sui piaceri A breve termine Un fatto che Spesso Li rende Incuranti Dei piani O delle conseguenze Questo sembra Certamente vero Per Youssef Con le sue Generosità spontanee E le sue tante bugie Contrastanti In particolare Il suo assalto a Calli Era stato Stranamente Negligente Perché Youssef Non aveva davvero Ucciso Calli Accortosi del danno Non riusciva a finire L'opera Per via dei sensi Di colpa O era semplicemente Un codardo Compito dello staff Che remava Per l'incarcerazione Di Youssef Era Dimostrare Che il ragazzo Avesse evitato L'omicidio Per pura codardia Per il timore D'essere scoperto Ma che aveva fatto Il possibile Per devastare Calli E Non che non Avesse ultimato Il lavoro Per qualche senso Di colpa Il fatto che Mi abbia chiuso In un sacco Viva E si sia sentito Abbastanza Suagio Da tornare Da tornare A casa Sembra Una prova Sufficiente Diceva Calli Giustamente Alla fine Però Youssef Cadde sotto L'accusa minore E venne visto Come un uomo Intenzionato Ad uccidere Per interesse Ma che aveva fallito Per motivi etici E che non era Probabilmente Sufficientemente Cattivo Da portare a termine L'opera L'avvocato di Youssef Di nome Roberto Kong Nel frattempo Aveva sperato Di fargli Ottenere La sospensione Della pena Rimarcando Sul fatto Che Youssef Prima da allora Non aveva commesso Mai malvagità Ciò gli avrebbe Permesso Di scontare Una breve pena In Cile Ma di camminare Libero Su suoli stranieri Il 20 giugno 2012 Rocio E Calli Entrarono A grandi passi Nell'aula Di tribunale Dell'imponente Centro De Jusitia In acciaio E vetro Di Santiago La guarigione Di Calli Ad Austin Era stata instabile Dormendo sul divano Di un amico E facendo la cameriera Si sentiva nauseata Ogni volta Che incontrava qualcuno Con dei dettagli simili A quelli di Youssef Come la sua corporatura robusta Quando la figliata locale Della ABC Le chiese un'intervista Calli la rifiutò Provando una profonda vergogna Per quanto Le era capitato Aprire la sua casella In mail La riempiva di terrore E il suo cuore Batteva ogni volta Che qualcuno Le si avvicinava Un terapeuta Le aveva diagnosticato Un disturbo Da stress post-traumatico Tuttavia Non aveva permesso I suoi genitori Di annullare Il viaggio di famiglia Attraverso Il Cile Meridionale E l'Argentina Che avevano Pianificato Prima Della sua aggressione E nel novembre 2011 Erano andati all'estero insieme Le montagne della Patagonia Che svettavano Come una meringa Contro il cielo blu saturo Le ricordavano Perché fosse emigrata in Cile E quando i suoi genitori E il fratello Tornarono in Texas Calli Coraggiosa Vi rimase Amava quella terra Nonostante con lei Fosse stata crudele E insensibile Per i successivi sei mesi Lavorò alla reception Di un piccolo ostello A Puerto Natales Una stazione di passaggio Per il parco nazionale Torres del Pine Il giorno dell'incontro Con Youssef Per il processo Calli Era ansioso di vedere Come la prigione Avesse cambiato Youssef E Trepidava Il pensiero Che il ragazzo La vedesse resiliente E forte Ma quando Youssef Uscì da una porta laterale Ammanettato E con indosso Gli stessi indumenti Under Armour Del giorno In cui era stato Arrestato Le mancò il fiato Sembrava in forma E radioso Come sempre Anche se Forse Un po' più magro Youssef Sussultò Alla vista di Calli I suoi occhi Si spalancarono Rabbiosi Prima di tornare A un'espressione Stoica Si sedette Accanto al suo avvocato E Calli Si ritrovò a fissare La nuca Di quella testa rasata Si premette Le mani contro le gambe Per impedire loro Di tremare Rothio Vestita con un dolce vita nero Gonna e tacchi Iniziò rapidamente A sfogliare le prove La dichiarazione di Calli La sua cartella clinica Le foto della scena del crimine Le dichiarazioni Dei coinquilini E il rapporto Della polizia Quando l'avvocato Di Youssef Sostenne che il ragazzo Non avesse avuto Mai prima Precedenti penali Rothio Pronta Tirò fuori Una dichiarazione Dei pubblici ministeri Danesi Con le loro accuse Contro il ragazzo Era una scommessa Il foglio di imputazione Era al di fuori Della giurisdizione cilena E Non nella lingua ufficiale Del tribunale Ma il giudice Lo accettò come prova Con un colpo di martello Quindi dichiarò Youssef Colpevole Di tentato omicidio Per il quale Fu condannato A 541 giorni Inoltre Venne condannato Per frode E ottenne altri 61 giorni Di reclusione 61 602 giorni In totale Youssef Aveva già scontato Più della metà Di loro In attesa di processo In pratica Sarebbe uscito In poco più di Un anno Ma poi Sarebbe stato estradato In Danimarca Dove avrebbe Dovuto affrontare Altre 5 accuse Uscendo dal centro De Justicia Callie Trasse un profondo respiro Dall'aria pungente Dell'inverno Aveva vinto Alla fine aveva vinto Callie rimase a Santiago Tornando a lavorare Presso il Bride Lenguatec E facendo del suo meglio Per dimenticare Youssef Trovò un nuovo appartamento E fece nuove amicizie Di tanto in tanto Scambiava messaggi amichevoli Su Facebook Con Rocio E Con i suoi vecchi Conquilini Sabine Subito dopo il processo Cancellò ogni foto Con Youssef Dai social Ancora non riesce a credere Che quell'amicizia Fosse solo Una farsa Nel febbraio 2013 Callie fu costretta A leggere ancora Il nome di Youssef Nei titolori De las ultima notizia Erano passati solo 8 mesi dal processo Youssef Riportava Il giornale Aveva attirato L'attenzione Di Frank Lobos Uno dei calciatori Più famosi Del Cile Che gestiva Un programma Di riabilitazione Sportiva Per i detenuti Sotto tutte le apparenze Youssef Era stato Un prigioniero Modello Rinchiuso In uno dei più Antichi penitenziari Di Santiago Si era subito Ingraziato I detenuti E le guardie Regalando indumenti Sportivi E somministrando Lagopuntura C'erano anche voci Secondo cui Non solo Aveva sedotto Un avvocato Ma aveva anche Convinto alcuni Borseggiatori A trasferirgli 1500 dollari Ciascuno In modo che potesse Organizzare Il loro viaggio In Danimarca Dove avrebbero potuto Esercitare Il loro mestiere Frank Lobos Aveva ricevuto Cure da Youssef Per uno stiramento Ai glutei Ed in cambio Egli aveva fatto Pressione Per far ottenere A Youssef Il permesso Di competere In una maratona Il consiglio penitenziario Accolse la richiesta La foto del giornale Mostrava Youssef In leggings E una maglia Under armor Verde neon Affiancato da due guardie Mentre faceva Il riscaldamento Che lì Sospirò Poteva solo sperare Che la Danimarca Dove sarebbe Stato presto Estradato Avrebbe trattato Youssef In modo diverso Dal Cile In ogni caso Era pronta Ad andare avanti Quell'agosto Poco dopo il trasferimento Di Youssef A Copenhagen Callie Si imbarcò Su un volo Di ritorno In Texas L'anno successivo Si svolse rapidamente I suoi genitori La aiutarono A scegliere Un appartamento Un appartamento Ad Austin A lungo Con lo stress Aveva seduto Di Kepos Un bell'uomo A novembre Mi ha detto Mi ha detto Che non avevo A moglie Nei figli E che era stato Nelle forze speciali In Danimarca Aveva raccontato La donna Al giornale Ma poche settimane Dopo Marisi ritrovò Il conto prosciugato Youssef inoltre Era sparito Come avrebbe scoperto Callie L'intera storia Era ancora più complicata Quindi Cosa era successo Youssef era arrivato In Costa Rica All'inizio dell'anno Pochi giorni dopo Il suo rilascio In Danimarca Infatti Era stato assolto Da tre Delle cinque accuse E liberato Dopo aver scontato Solo tre mesi Nella città Coloniale di Cartago Aveva riacceso L'amicizia Con Carlos Madrigal Un corritore Costaricano Che aveva incontrato Nel 2008 E sua figlia Maria Una bella donna A cui Youssef Propose quasi Istantaneamente Il matrimonio Si era poi Trasferito Senza la sua fidanzata A Chiepos A due ore e mezza Di macchina Per allenarsi Per la transtica E Aiutare A istruire I giovani Svantaggiati Nella palestra Di box locale All'inizio di giugno Si era presentato In un'azienda Di elettronica Marina In città Di proprietà Di un uomo originario Del Texas Di nome Todd Flanders Presentandosi come Joseph Carter Youssef Aveva affermato Di essere stato Derubato Di 10.000 dollari Insieme a tutti I vestiti Da corsa Aveva chiesto A Todd Flanders Di effettuare Un ordine Di 3.500 dollari Per abbigliamento Sportivo Under Armour Per suo conto Promettendo Promettendo che I suoi sponsor Gli avrebbero Rimborsato I soldi Todd Flanders Il 44enne Di Clean Lake City Era un tipo Dallo stile sbarazzino La cui personalità E generosità Straordinaria Intorno a Capos Gli avevano fatto guadagnare Il soprannome Di Super Gringo Il tipo di ragazzo Tanto popolare Da avere Sempre con sé Ben due cellulari Capace di scherzare Con chiunque Tutti in città Lo conoscevano Come un simpaticone E una brava persona Non aveva però Avuto una vita facile Infatti la sua primogenita Era ime morta Prematuramente Solo cinque anni Prima dell'incontro Con Yussef E la città Si era tutta stretta Attorno a lui Era un uomo Davvero amato Yussef aveva trovato Il contratto Di Todd Flanders Tramite un amico Comune Che garantiva Per lui Quindi l'uomo Accettò Di concedergli Il prestito I due riuscirono Addirittura A stringere Amicizia O qualcosa Che ad un'amicizia Ci assomigliava Tanto che Todd Flanders Confidò A Yussef Di starsi Separando Dalla moglie Con il risultato Di una lotta Per la custodia Dei figli Due gemelle Di due anni Yussef Gli offrì aiuto Per potersi Pagare Le spese legali Gli disse Che gli avrebbe Procurato Dei telefonini Da vendere Fuori dal suo negozio Penso ormai Sia inutile Precisare Che sia i cellulari Che il rimborso Per quei vestiti Non arrivarono mai Fu in questo periodo Che Yussef Ancora usando il nome Di Joseph Carter Si presentò A Mary Taylor Yussef Sembrava Aver imparato A colpire Le persone fragili Anche Mary Taylor Madre di una bambina Di nove anni Si era recata In Costa Rica Per una pausa Un ritiro di yoga Per ritrovare La fiducia In se stessa E Yussef Le ispirava calore Sicurezza Prenotava per loro Stanze In ottimi alberghi Le portava La colazione A letto ogni mattina Le offrì addirittura Pasti E acquisti Per questo Era rimasta affascinata E decise quindi Di comprargli Quei vestiti sportivi O meglio Di prestargli Dei soldi C'erano state però Alcune occasioni In cui Mary Aveva sentito suonare Un campanello D'allarme Come la volta In cui Yussef Osservò Che avrebbe potuto Ucciderla Nella giungla E nessuno L'avrebbe trovata O la volta Che le premette Un cuscino Sul viso A letto Fino a quasi Farle perdere i sensi O ancora La volta che notò Che il nome Sul passaporto Era proprio Yussef Non Joseph Ma Quando Mary Faceva domande Yussef ribatteva Che non aveva senso Dell'umorismo Che era Curiosa E malfidata Più felice di quanto Non fosse Da molto tempo Mary si fece Andare bene Quelle risposte Evasive E poi 17 giorni dopo L'inizio Della loro storia D'amore Yussef Non tornò Nella loro camera D'albergo E partì Con i suoi Risparmi E il pin Della sua carta Di credito Senza un soldo Mary trovò Todd Flanders Rintracciando L'indirizzo Su uno Dei pacchetti Di abbigliamento Sportivo Di Yussef Quando si presentò Al suo negozio Raccontò Subito La sua storia E i due Iniziarono Immediatamente A collegare I punti Leggendo online I resoconti Dei giornali Danesi E cileni Todd Flanders Inviò immediatamente Un messaggio A Yussef Su Whatsapp Come puoi vivere Con te stesso Dopo quello Che hai fatto A questa povera donna Lei è una figlia E tu le hai rubato Tutto Speravo di essere Stato la tua Unica vittima Ma fare questo A una povera ragazza È imperdonabile Todd quindi ribatte Farei in modo Che tutti In questo mondo Sappiano Cosa hai fatto Yussef Risponde Sto facendo La cosa giusta Todd ribatte Hai rubato A tutti Compreso A sua figlia Yussef risponde Non l'ho mai fatto Ti sta raccontando Cazzate Todd ribatte Domani mattina Devi avere i nostri soldi Alle 10 Sto informando Il mio tecnico informatico Di tutto questo Yussef risponde Devi smetterla Di parlare con me Todd ribatte Nessuna minaccia Fratello Yussef risponde Dammi solo un po' di tempo Voglio finire tutto questo Prima di quanto Lo voglia tu Sono stufo Di questa vita Ma il giorno dopo Yussef Lo aveva bloccato Nessuna risposta E quindi Todd Flanders E Marie Furono costretti A raccontare Tutto ai media Il cuore di Calli Batteva forte Mentre leggendo Si rendeva conto Che Yussef Era nuovamente A piede libero Dov'era in quel momento? Sarebbe venuto in Texas Per vendicarsi? Pochi giorni dopo La pubblicazione Dei titoli I suoi contatti Entrarono in azione Carlos Medina Aveva trascorso Un intero fine settimana Creando un sito web Su cui pubblicare Ogni articolo Mai scritto Su Yussef Rothio aveva contattato Gli uffici Della giustizia cittadina Per offrire Tutte le informazioni Che poteva Ma il caso Ottenne poca attenzione Proprio come Nel caso di Calli I funzionari Respinsero l'incidente Appellandolo nuovamente Come una controversia Tra staranieri E qui io mi chiedo Ma controversia Di che cosa Esattamente Sto uomo Sto ragazzo È un ladro Un ladro Un truffatore Questo arriva Piglia i soldi E scappa Quindi che controversia È Esattamente Non penso neanche Che ci voglia Un'intelligenza Sopraffina Per arrivarci Perdonatemi Però Procediamo Todd Flanders E Marie Taylor Avevano La città con i cartelli Attenti a Joseph Carter Barra Yussef Carter Ma dopo due settimane Senza incursioni Todd Flanders Comprò a Marie Taylor Un biglietto Aereo In modo che potesse Riunirsi con Sua figlia in Canada Avrebbe inseguito Yussef di persona Da solo anche per lei Aveva saputo Della sua fidanzata A Cartago E voleva Rintracciarla Passarono le settimane E Calli aspettò Trepidanti Ulteriori notizie Sulla vita di Yussef In un certo senso Sentì di essere Stata una vittima Dell'inazione Degli altri Se una delle vittime Danesi o palestinesi Di Yussef Fosse stata più attiva Più pronta A ribellarsi E sarebbe stato Risparmiato il calvario Calli non poteva sapere Quanto Todd Flanders Si stesse dando da fare Divenne ansiosa Sapendo che Yussef Stava ancora Seminando il caos Dopo che Flanders Ebbe rivelato La vera identità Di Yussef Alla sua fidanzata Yussef reagì Con una fandonia Per mettere L'uomo In cattiva luce Con la moglie A sua volta Le disse Che era stato assunto Per rapire I loro gemelli E portarli fuori Dal paese E tutto a causa Della Malavita In cui Todd Flanders Si era cacciato Una bugia Questa che allontanò Todd Flanders Dalle sue figlie Per oltre Due mesi Marie Taylor Nel frattempo Divenne quasi Del tutto silenziosa Smise di rispondere Alle domande Dei giornalisti E ritardò A fornire Alle autorità I suoi estratti conto Quel dicembre Seduta in un bar Nel suo giorno libero All'ospedale Calli Decise di scrivere Un'email A Marie Taylor Mi chiamo Calli Quinn Iniziò Non sono sicura Che tu sappia Chi sono Ma sono stata Anche io Una vittima Di Yussef Non voglio Presumere I tuoi sentimenti In questo momento Tutto quello che so È come mi sono sentita Io dopo il fatto E forse Condividi alcuni Di questi sentimenti Mi sono sentita Sciocca Mi sono sentita Ingannata Ero imbarazzata Ma non è così Che mi sarei dovuta Sentire Ora sto bene Come vittime Ora ci viene data La responsabilità Di fare il possibile Per impedirgli Di continuare Con la sua scea di male Sebbene Non abbiamo chiesto Questa responsabilità È comunque nostra La parola vittima Non deve connotare Silenzio E debolezza Invece Dovrebbe significare Sopravvissuti E cercatore Di giustizia So quanto sia Allettante Voler prendere Le distanze Dalla situazione E ignorarla Ma Ti dirò Con il tempo Non puoi scappare Da quello che è successo Sarà sempre con te Tutto quello che puoi fare È affrontarlo Direttamente E fare il possibile Per evitare Che accada di nuovo A qualcun altro Pensò a quell'email Per diversi giorni Prima di premere Finalmente invio Posso un giorno E Marie Taylor Non rispose Posso una settimana Poi un'altra E un'altra ancora Ma niente Ma alla fine Arrivò una notizia Scioccante Todd Flanders Che aveva recentemente Provato a mettersi In contatto Con le altre vittime Di Yousef Aveva pure Promesso di mettersi In contatto Con Calli Entro la fine dell'anno Era morto E questo Fa veramente Incazzare La perdita Della sua Defunta figlia E la lotta Per l'affidamento Dei suoi gemelli Furono un dolore Insopportabile Che prese il sopravvento Todd Flanders Infatti Si impiccò La città di Chiepos Rimase sotto Shock a lungo I love mucho Mi super gringo Scrisse un amico Sulla sua bacheca Di facebook Un mese dopo Il 9 gennaio 2015 Il nome di Marie Taylor Apparve nella casella Di posta di Calli Calli aprì nervosamente La mail Era vuoto Tranne che per un nuovo link Di un articolo Sul diario extra Lei era brevidì Quasi 4 anni dopo L'attacco Era ancora perseguitata Dall'ultima volta Che aveva visto Yussef Di persona Al processo in Cile Mentre il giudice Leggeva la sentenza Yussef Aveva lo sguardo Fisso davanti a sé Ascoltando Impassibile Poi poco prima Che le guardie Lo facessero uscire Yussef Si era avvoltato L'aveva guardata Con i suoi luminosi Occhi marroni E aveva strizzato L'occhio Quindi le aveva fatto Un occhiolino Tutto questo Era rimasto impresso In Calli In una ferita Che dopo così Tanti anni Risulta ancora difficile Da ricucire Yussef Kater Si trovava probabilmente In Sardegna Quindi in Italia Tra aprile E giugno 2022 E in agosto Si trovava a Bonifacio Nell'isola francese Della Corsica Probabilmente In direzione Del sentiero GR20 Queste sono le ultime notizie Riguardo Yussef Questo vuol dire Che lo stanno ancora cercando Sicuramente è bravo A far perdere le sue tracce Ma voi Cosa ne pensate Di questo caso? Io sono rimasta colpita Da questo caso Lo ammetto davvero Ehm Trovo sia assurdo Che una persona Riesca a fare così tante truffe Tra l'altro Senza troppi problemi E continuando a vivere La propria vita A cuor leggero E' una cosa che proprio Un po' Mi disgusta Lo ammetto Ecco Lo ammetto In ogni caso Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Di questo caso Lo conoscevate già Fatemi sapere Quello che volete Qui sotto nei commenti E nel frattempo Vi mando Un bacione A noi ci vediamo Prestissimo al prossimo video Mi raccomando Fate i bravi Continuate a mangiare Le verdure Che continuano a far bene Ma soprattutto Prendetevi cura di voi E fate ciò che vi rende felici Basta che non facciate nulla Di criminale Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti